Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi miei, oggi altra reaction incredibile Visto come le state chiedendo in tantissimi Andremo a vedere le partite più belle ed emozionanti del 2023 Partite piene di gol, colpi di scena clamorosi Ovviamente ragazzi, come al solito, il video ci è stato offerto da Football House Io come sempre ragazzi vi invito ad iscrivervi al suo canale Per non perdervi i suoi video che sono incredibili ragazzi Apprezziamo il lavoro di sto ragazzo che è veramente allucinante Lascio like e come sempre, io vabbè sono iscritto ovviamente però invito ovviamente anche voi a farlo Andiamo a vedere questo bellissimo video, vai! Ok, Serie A vs Champions League Ok, ah Serie B, ok credo che sia la sua sigla questa Ok no pensavo, ok vai, vediamo Vabbè questa è la Football House La sua sigla è incredibile Ok, partite emozionanti del 2023 Sono molto curioso di quello che succederà in questo video Real Madrid-Viglia Real 3-2 Oddio, cioè quindi Real Madrid ha perso Ok Mamma mia ragazzi, Vinicius è veramente un demone in campo Troppo forte questo giocatore E gol? Non ci posso credere Cioè come ha fatto a segnare da lì? Cioè vabbè è un mezzo autogol con il rimpallo Però, madonna Ma no, ma le hanno devastate Come hanno fatto a vincere 3-2 quelli del Villareal? Bello, mannaggia Ma quello qua raga, che cosa è successo a questo qua? Bello Bello sto gol C'è il mio numero per quello palese Madonna mia, l'ho vista dentro Niente raga Ma Vinicius, cioè ma in campo tipo gioca come se praticamente giocasse tipo contro i pulcini Perché se no non me lo spiego, cioè Bo Ma come ha fatto? No raga, è troppo forte veramente questo giocatore Che cosa si è mangiato? Mannaggia Quindi sono al settantesimo 2-1 Vabbè non lo sa manco lui come l'ha segnato il gol del pareggio Ah, gliel'hanno annullato Ah, ok Ok, ok Quindi 2-2 Chiaramente nella panchina fanno un bordello Perché giustamente pareggiare contro il Real Madrid, ragazzi, è incredibile Ma che gol ha fatto raga Ma manco su FIFA Madonna Madonna Ci ha fatto una tripletta solo lui? Ma Vinicius si è mangiato 3 gol clamorosi comunque in questa partita Non ci credo raga C'è il Villareal che vince con tripletta di quel giocatore che ha un nome impronunciabile Ah, 2 Ok Ciucuense si chiama, ok Oh, Juventus-Torino Attenzione Quindi tra le partite più emozionanti del 2023 Ci sono anche squadre italiane Ok Fatemi sapere nei commenti se avete visto Juventus-Torino Io no Che è un derby Vabbè, bel gol, dai Eri lì, eri lì Vediamo Madonna, quadrato È così Gli apre proprio, gli apre la porta in due, quadrato Molto forte, quadrato, raga, ci sta Madonna, era pallonetto di testa era Eh, ma anche il Torino, madonna Guarda che gol, sì Bel gol Madonna Madonna, che gol Questo sicuramente è stato un bel derby, raga No Gli ha devastato la traversa Anche, madonna, raga, ma che partita assurda è stata, oh Madonna Chiesa Bello, Bremer Troppo forte, raga Io ce l'ho nella carriera di FIFA È veramente troppo forte, sto difensore Madonna Vabbè, rabbio, così, a porta vuota, praticamente Però che partitone, raga Southampton Tottenham 3 a 3 Ok, quindi Premier League Madonna Zopp è diventato, che è successo Bello era Madonna Qualcuno l'avrà preso in testa, ragazzi Son, ti amo, giuro Madonna, che passaggio Tiro di potenza ha fatto Treve Madonna, raga, che gol Che gol Spero che sono segni qui Tocco di mano No, ok, no Mamma mia Niente gol di sonno, mi sa Arriva a 250 redditor Wolcott su di lui Se torna indietro Kulusevski Cross morbido dentro E quindi Perisiccio Mamma mia Perisiccio 3 a 1 per il Tottenham Cioè, quindi loro vincevano 3 a 1 al 73esimo E li hanno pareggiati In 15 minuti Mi stai dicendo Come è possibile Madonna Pegnavo sto gol, veramente Ok Greve E beh, super gamba tesa Al novantesimo, raga Non ci credo Non ci credo Madonna Cioè, raga, al novantesimo Oddio, la Juventus di nuovo? Ma bellissima sta cosa Cioè, anche se sono interista Sono contento, però Vediamo Ma che gol, raga Ma mega potenza Rigorissimo Rigorissimo E beh Ma pure il VAR Che VAR gli devi dare lì Super rigore Di Maria, ragazzi Belli gol Madonna Fagioli, ragazzi Gol ha fatto Alluginante Ah, no Ok Miric ha segnato Scusate Bello Madonna Che partitone, raga Bellissimo Ah, spero Che in questa compilation Ci sia anche Inter Lazio Perché è stata una bella partita Madonna, raga Ma che gol ha fatto Ma che gol ha fatto Mamma mia Che gol E quindi finisce così Eston Villa Arsenal Ok A cinque minuti Un gol del genere A cercare in area di rigore La traversa Ah, quindi ha segnato Contro la sua squadra preferita Allucinante Buon lavoro di Giorginio White Pronto al cross Mette in mezzo Arriva Minx Madonna E come lo pari Un tiro del genere Saka, ragazzi È una bestia E io ce l'ho Nell'ultimi team Mette lì Si riposa Madonna Coutinho, ragazzi Madonna Che giocatore Che traversa Madonna Se fosse un po' meglio Su FIFA Zinchenko Zinchenko Madonna Cioè, avevi la porta vuota Zinchenko Questo era proprio Da licenziamento Secondo me, ragazzi Licenziamento proprio Madonna Quante traversa Non è vero Non è vero Cioè Ha preso traversa Il portiere assegnato di testa Non è vero Non è vero Ragazzi Non è vero Non può essere vero Ma dov'è il portiere? Ma in che senso, raga? Borussia Vabbè Bellingham, ragazzi Mamma mia Bella l'esultanza Di flexare i muscoli Contrasto con Engels Che riesce a servire Cioè, quindi di base Sono partite praticamente Mega equilibrate Con 200.000 gol Ok Madonna No, dai Ma cosa ha fatto Quello? L'intervento Rierson L'ha fatto La poteva salvare Madonna, raga Ma che angolazione Gli ha fatto Madonna E la chance E la chance Pazzesca Per il parigi Ok 3 a 3 Madone Madonna Ragazzi Ma quello che c'è la scarpa gialla È una fucsia Ma Guarda C'è la scarpa gialla È una fucsia Ok Siviglia o Sasuna Ok Che belli sti gol Raga Comunque Il 2-0 Ah L'ha annullato Mannaggia E l'ha parata sulla linea Wow Aia Madonna Che belva Vabbè ragazzi Ma il portiere è da paperissima Scusatemi C'è proprio una cosa Che doveva scendere Il gabibolo in mezzo E mettersi a ridere C'è E Nesiri Punta la reda di rigore Nesiri va sul sinistra Ma sul dentro Nesiri gran giocata Madonna ragazzi Yusuf Nesiri Va a correre E Zabde I nomi sono impronunciabili Però che gol 3 a 2 Espulsione per Fernando Dalla panchina Ma come Dopo 17 anni Oh hanno espulso uno a random Dalla panchina così PSG Lille 4 a 3 Infatti mi sembrava strano Senza Mbappé Mannaggia Chissà quanto potrebbe essere bello Raga per un portiere Parare un tiro di Messi Papà era fatto Mamma me la ricordo Stazione di Mbappé Raga Illegale Illegale proprio Cioè Sto giocatore È da nerfare È il giocatore raga Vabbè anche Neymar Raga Allì dietro Andre Gomes Cross Bello dentro Colpo di testa Posto 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 È molto difficile Da parare una palla del genere Effettivamente Pallo sul primo palo Colpo di testa Kip Mb Tocco Donnarumma Non arriva il pallone Sul primo palo Uova terra Rigore Greve Piazzato Donnarumma Ma non mi dire che gli fanno il 3 a 2 Cioè da 2 a 0 3 a 2 E quindi poi loro fanno altri due gol All'ottantatresimo siamo qui raga Attenzione Che quello come scivola vola Di tece Oh come Come tira tira Quello segna Allucinante ragazzi Ragazzi ma che punizione è disegnata No no dai ragazzi Ma che cos'è dai Ma che punizione ha fatto Madonna ragazzi La migliore partita assolutamente è questa Ma che punizione è Al 94 esimo Poi 7 minuti di recupero Non so cosa è successo in sta partita Avranno fatto una pausa hamburger Non lo so ma Ragazzi Che gol Ragazzi per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Vi mando un bacino Un cuoricino Fatemi sapere se volete altre reaction Nei commenti Ciao a tutti